Come vi ho annunciato prima, questa sera abbiamo due concorsi paralleli. Il concorso per i nuovi talenti nel campo della musica e il concorso per l'arte del bodypainting, cioè l'arte di dipingere sui corpi. E vediamo se è pronta Laura Zambelli sulla nostra piattaforma per il primo concorrente del bodypainting. Ci sei Laura? Sì, ci sono Stefania. Eccomi qui a due passi dalla riva del Lago di Garda. Come vedi alle mie spalle c'è questo meraviglioso veliero chiamato Siora Veronica. Ma io sono qui per parlarti del primo momento dedicato appunto a quest'arte meravigliosa che è l'arte del bodypainting. Come vedi qui al mio fianco ho il primo concorrente in gara di questa sera, parliamo di Flavio Bosco. Quindi benvenuto Flavio, ciao! Ciao! Ecco, e qui sulla pedana invece abbiamo la sua modella, la modella che Flavio si è prodigato tanto dalle prime ore del pomeriggio a dipingere. Quindi Flavio, finché Elisa interpreta la tua pittura, dici che cosa ti ha ispirato in questo dipinto. Il tema che ho scelto per questo bodypainting è la natura. Ho rappresentato praticamente sulla parte anteriore della modella un leopardo, mentre sulla schiena un pappagallo. Sulle gambe ho rappresentato delle farfalle e il tutto è contornato dal verde e dai fiori. Bene, quindi complimenti al primo concorrente in gara, Flavio Bosco, complimenti anche alla sua meravigliosa modella. Un applauso ad Elisa. E a questo punto il compito più arduo sta nella nostra giuria VIP che dovrà giudicare l'opera che è stata fatta. Ma io vi do appuntamento a più tardi con il prossimo Painter in gara. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Me! Bonita! Me! Mi casa! Shakira, Shakira! Oh baby, when you talk right now, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight and my hopes don't lie and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see baby, this is perfection. Complimenti alle Gamblers, il corpo di ballo del Festival della Garda. Ringrazio Laura che ci ha fatto vedere il primo concorrente del body painting e vi ricordo che c'è una giuria per decretare il vincitore di questo festival. E ve la vado subito a presentare. Abbiamo l'affascinante Fabio Testi. Ciao Fabio. E poi abbiamo la bellissima Barbara Chiappini. E poi abbiamo Franco Battaglia. Grazie di essere qui. E subito Fabio ti volevo chiedere, dove ci sono belle donne naturalmente tu non puoi mancare, vero? Beh, mi hai fatto un complimento e io lo faccio a te perché dal momento che ci sei tu come la rappresentante femminile numero uno, Grazie Fabio, più tardi naturalmente parleremo anche con Franco e con Barbara. Grazie Fabio, più tardi naturalmente parleremo anche con Franco e con Barbara.